Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di reddito di cittadinanza, infatti la leader Giorgia Meloni nelle scorse settimane ha attaccato i furbetti del reddito di cittadinanza. Vediamo che cosa è successo. Prima di visionare un video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. Tra le tematiche sicuramente più frequenti e commentate degli ultimi mesi vi è il reddito di cittadinanza e infatti alcuni politici hanno chiesto al governo un ridimensionamento del sussidio se no la totale cancellazione. Giorni fa il governatore Vincenzo De Luca aveva proposto le aziende soffrono per la carenza di figure professionali, non ci sono stagionali per una ricaduta negativa del reddito di cittadinanza. Chi ha il reddito di cittadinanza deve dare la propria disponibilità a fare lavori stagionali con un incremento di 500 euro. A supporto di De Luca Bianche e Giorgia Meloni, infatti la leader di Fratelli d'Italia, ha scritto un commento sul suo profilo ufficiale Facebook correlato ai percettori del reddito di cittadinanza dicendo ancora scandali legati al reddito di cittadinanza. Napoli e Vicenza sono stati scovati numerosi soggetti che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Uno di loro era pure detenuto. Basta assistenzialismo e politiche scellerate. L'Italia ha bisogno di lavoro non di marchette elettorali, scrive La Meloni. Lo scorso aprile La Meloni aveva dichiarato di voler abolire il reddito di cittadinanza, quello di emergenza, il cashback e la lotteria degli scontrini. Il partito di La Meloni sulla scia di opporsi a questa forma di assistenzialismo aveva presentato una serie di emendamenti al decreto sostegni tra cui proprio la cancellazione del reddito di cittadinanza che era stato firmato dai senatori Ciriani, Fazzolari, Calandrini, De Carlo e De Bortoli e recitava nello specifico abrogazione del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziate, le famiglie in difficoltà in forme di assegno di solidarietà. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!